Lo scorso giugno il comune di Caltanissetta aveva introdotto l'iniziativa Io compro Nisseno, un buono spesa elettronico di 75 euro spendibile anche in più un tranche negli esercenti commerciali aderenti al progetto. L'iniziativa era rivolta ai cittadini residenti o domiciliati nel territorio comunale, il cui reddito Isee non superasse 25 mila euro per l'anno 2020. Il contributo economico a fondo perduto interessava circa 1.330 famiglie. Nei giorni scorsi sull'albo pretorio del comune sono usciti i numeri ufficiali dell'iniziativa. Su 100 mila euro imbegnati, su 1.330 voucher a disposizione possibili, oltre 400 bonus non sono stati utilizzati. Di tutto ciò abbiamo ascoltato il vice sindaco di Caltanissetta, Grazia Gianmusso. È andata che oltre 900 bonus sono andati a buon fine, sono stati spesi e quindi l'economia era quello che noi volevamo raggiungere come obiettivo, quello di dare un'iniezione di liquidità all'economia nissena. Pertanto in molti hanno aderito, da quando c'è stata la pubblicazione dell'avviso del bando immediatamente tutti sono accorsi per poter usufruire di questo bonus di 75 euro, che ricordiamo era spendibile in tutte le attività che volevano farne parte. Per quelle non spese sono rimasti nelle disponibilità delle casse comunali e quindi non è andato per nulla perso.